Sapri Democratica si prepara per quest'altro importante appuntamento elettorale. Domenica ci sarà questo incontro pubblico per tracciare un bilancio, ma anche per parlare del futuro. Sì, è un'iniziativa voluta fortemente dal Presidente, dal Professor Raffaele Grisoria, che ha sentito la necessità di avviare questo percorso con un incontro pubblico dove si deve fare un po' il punto di quella che è stata l'azione amministrativa di questi cinque anni e dove la cosa più importante è far decidere a Sapri Democratica, quindi ai cittadini che hanno sostenuto Sapri Democratica cinque anni fa in questo progetto, la volontà a voler proseguire e con quali obiettivi presentarsi per la prossima campagna elettorale. Un momento importante, un momento di verifica, ma anche un momento di confronto e di condivisione. È ovvio e rimane ancora un punto determinante che il progetto futuro di amministrazione di questa città ancora è tutto da costruire in termini di disponibilità e in termini di obiettivi. Sarà un percorso che durerà tutto il mese che ci aspetta e che naturalmente io continuo a ripetere. Deve portare all'interno di questo progetto nuove forze e nuove energie. Quindi nuove forze e nuove energie e invece dell'amministrazione uscente chi rimane? Questa è una scelta che aspetta ad ognuno di noi e che, come abbiamo detto nell'altro incontro, Sapri Democratica saprà rispettare. Ognuno farà le sue scelte sentendo dentro quello che ha voglia e desiderio di fare. Ma l'obiettivo più importante non sono i nomi, l'obiettivo più importante sono le motivazioni che porteranno nuove forze e nuove energie a presentarsi alla città ed assumersi la responsabilità di governare un paese. Che è una cosa complicatissima e faticosa, che richiede passione ed entusiasmo, ma fondamentalmente grande spirito di sacrificio. Ecco, come mai la difficoltà a sciogliere la riserva sulla sua ricandidatura? Perché non è Giuseppe Del Medico l'obiettivo di un'amministrazione. Non è chi fa il sindaco, ma chi entra in questo progetto, quali sono le forze e intorno alle quali poi bisogna costruire una candidatura a sindaco. Altrimenti sarebbe una candidatura autoreferenziata. Io spero davvero che questa stagione possa portare la nostra città ad essere una città ancora più protagonista.